E' andato il giro, allora per Fabio Battilani con la Twingo la possibilità, intanto andiamo con il premio immediatamente, venite qua guardate dove c'è la IRC proprio che vi rappresenta, consegniamo immediatamente il premio, 3.000 euro per loro e la targa ovviamente che rimarrà sulle loro mensole per segnalare il fatto che sono stati bravi e sono arrivati alla vittoria, la mettete insieme alle altre, venite qua non ve ne andate